Coming up next, it is our main event of the evening, between the two-time heavyweight champion, Frank Mir. Brock Lesnar Eccoci qua al... Oh, 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 oh! Secondo incontro, con... C'è un incontro tra Frank Mir. Antes tu dà Frank. Piece of shit, motherfucker, son of a bitch, Mir. Che mi sta sul cut. Oh, grandi superman, tanti juices. Contro Brock Lesnar Anche se negli ultimi incontri ne ha presi parecchie Frank Mir. Si, mi sa che ne ha perso in due o tre, eh? Non è scarso. Se tanto vuole saltare anche quella di Brock Lesnar, altra guarda vista. Guardiamo però questi qua. Brock Lesnar, non so come si faccia ad arrivare a 200 di porta... Anzi, a 0,6, perché non si vede. Troppo muscoli. E Frank Mir, 196 centimetri. Altri uguali. E può saltare anche quel pezzo di merda. Oh, 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 oh. Are you ready? 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 Fight! E il dal pugno. Uff. Ecco qua che inizia Frank Mir. Subito, con le sue bordate ai calci. Eh, bordate ai calci. Bordate ai calci. Bordate ai calci. I calci in faccia di Brock Lesnar. Mamma mia. Pugno. Sempre i calci. Brock Lesnar, con la sua incredibile prestanza fisica. Comunque quella sinistra, non è. Quello che... Per alzarsi. È un torello Brock Lesnar, però se ce la fai, è battibile. I pugni da per terra grande. Tentativi di attaccamento, anche se è in posizione di difesa. Un gomitato. Un gomitato. Un gomitato. Aya. Ma subrapane. No. Bastardo. Un gomitato, alzati, 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 alzati. si deve alzare signora vediamo la fuori dall'ottagono si entra anche che guarda l'incontro alza tipo di nuovo in piedi Brock Lesnar Frank Meal chi vincerà? spugniamo Brock Lesnar calcone, calcone ginocchiata al corpo tentativo di take down addirittura di Frank Meal calcio allo stomaco un pugnazzo al corpo sei rosso o russo no sono io russo un ginocchiato al corpo uuuh sei un stronzo aia 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 che ha comitato come si fanno i don't know si alzi si alzi hai calcone o fa ma io con il motocassi mi tocca insegnarti tutto su via un calcio irregolare intanto di Brock Lesnar minuto 20 esattamente adesso calcone ancora uno come fai a farli con i passi fai lo pino aia il corpo l'hai preso te siete stanchi? ma si ma a me non mi fa supermercata uuuh uuuh eh poto le mini kilto oh 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 trogo le dita uuuh grande combinazione di Brock Lesnar porta segno 3 colpi uuuh se ti prendeva lì calcione in faccia si guardano tutto bellamente e finisce il primo round nettamente in vantaggio broccolo anche a finire qui la gara ci vediamo al prossimo video allora broccolo snorvi devi fare il culo tutti i replay su frankmere tutti i suoi ha preso lui questo è tuo le balotte le balotte il trittico di colpi vediamo che queste qua saluteranno frankmere all'ospedale sei pronto? c'è pronto, vedi fai 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 calzone incredibili fai 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 che pia fai fai arte rischiazzare l'altro sinistra montana get up get up si deve alzare al 1 se lo scrolli di dosso al 1 vinta a mezzanotte superman punch ah 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 non lo fa che scasso poto wow adesso ti butta per terra �quina uglia sta marcollando male il freno almeno brutta non è che lo abbia visto bene avvia calcio sinistro calcio frontale un'altra volta Pearl a parte che non è capace frank mire di fare gli eye kick è quello il problema rientra in guardia su puttana allora un po sia cosa che se ne va allora brock lesnar ha rotto i zebedei si rigida proprio come ne vuole come vuole bella combinazione con l'appercut di frank mire ehi fa sotto vai distruzione totale gli ultimi dieci secondi a calzoni dopo un po secondo round finito ci va al terzo round eh che cornuto sangue sangue ti ho fatto sangue no 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 ecco qua i replay in posizioni un po diciamo un po così un po cosà ecco un'altra volta un po così un po cosà qua siamo già in posizione avanzata per brock lesnar oh lele oh la la faccela vede il terzo round eccolo qua are you ready? you ready? you ready? fai terzo round boom 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 mamma spostiamo le tastiere qua ecco la ma se ti blocca perchè gli fai like allora sinistra devi muovere l'altro non lo so allora su puttana managio dai 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 allora ma l'affanculo chi siete spiriti con l'anzale brock lesnar scusa la madonna è partito dalla siberia per dargli quel colpo qua diventa direttamente da lì grande padre di andrea luci chi si riprenda fiatto il stava sanità stanno stanno anche sotto posta figlia della tira ricorda tocca con l'altro piede dai dai managini da una vuoto frank mi ha detto anche bell'uomo vuole tentare un capo alla gamba l'applicato andato a segno colpi al corpo andati a segno aia via via subito via 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 si levi aia anzi andati via manco fossimo di macelleria proprio aia 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 ti becca un'altra volta ma vai a cosa ti butta per terra mi sa che questo lo faccio in due parti eh eh si la mia parte vittoriosa e dopo la tua hai capito sentite i tasti come si chiacciano sentite sentite non so se ci arrivi fisicamente al quinto round no mi sa di no perchè se è un po' difficile ecco sarebbe il colpo della domenica tipo un superman punch no? ah 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 sfruttiamolo aia zeb di brock lesnar uppercut è un po' stontito brock lesnar riprendi fiato brock lesnar è un pitichello tontito alla testa alla testa superman superman buon ultimo pugno questo round potrebbe anche essere di frank se non fosse per quel due tic da un giorno mi baglio che sto no 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 ah 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 occhio rosso occhio rosso occhio rosso mangiò in giù ok la volatò di dexter ah si schiacciavanti che queste qua sono cose sporcaccione a me piace e co you ready? you ready? you ready? you ready? fight! parto run ti parti subito bello così che senza stracco ripeto stracco dai non cracco aia questo l'hai sentito tuttissimo intanto ti sfotte brock lesnar e ciao e ciao questa volta fatto con l'altro e io becco quello che ha inventato i calzi alti guarda oh poteva presi tutti cazzo il fatto cosa li fai figa se te li blocca guarda sotto capito che sai subito fuori cazzo devi scherzare l'altro giù puttana non è oh allora giù ma madonna mia ti sottometto ti sottometto detto da colui che non ha mai vinto un incontro per sottomissione proprio giusto per precisare e certo se ci credi gli arbitri che spariscono ritornano senza proprio problemi senza patemi senza patè quarto round main event fatti sotto aia basta chiedere amico e non ci sono problemi vuoi fare un ballo con me venga io la butto un po' giù no no stai girando no si alzi è quello che voglio fare ma non si vuole vuoi fare un grande panco me prego grazie scusi io non lo fo papiro pan no mi sa che se non succede nulla negli ultimi 30 secondi ragazzi ci sarà il quinto round addirittura ancora sfottimento questo video sarà diviso in due ovviamente la parte vittoriosa la prima parte penosa la seconda giusto giusto bastandone pugli legati alla fine quinto round i giudici stanno già delineando gli ultimi guarda come gonfiato in faccia guardalo gli ultimi voti ti sto gonfiando la faccia si 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 ha detto si bene vieni quinto round senza nessuna esclusione di colpi qui senza pause senza select perché l'hanno tolto dal comando della playstation 4 per quello schifo di tasto share che non ho mai schiazzato perfetto aia 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 quinto round se mi cali per teatis spacco la faccia io in real life perchè non è possibile che mi arrivi alla fine facciamo tre ore di video dopo meno vanni conteggi meno vanni conteggi ho anche qualcosa di insperato aiuto grande grande aspetta che colpisca lui e non fare più gli aiki che te specco la faccia e capio aiki aiki come si il pronunzione bello sei più stanco di stankovic però ce la devi fare mi sembra prendere con quello la e calala se io becco quello che ti dice di fare aia 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 cantante cantante si allora ci sta giu porca miseria se si da la vittoria per i tentativi di sottomissione hai vinto te su questo non ci piove aia aia dalle corde dalle corde dalle corde perfetto che noi stiamo giocando a ww 2k15 giustamente aia belli jeb double jeb belli double jeb aia bello calcone in maia lontano ginocchiata ultimo minuto eh si del quinto round dopo ragazzi ci saranno ancora 7-14 round si arriverà il round del 55 poi finirà il video si è morto e l'hai preso te wow non è vero eye of the tiger gli ultimi 27 secondi ce la devi fare dai aia o dai che è stordito brockler ma vai di sotto che manca con 10 secondi sotto 3 2 e domani notte figlio mio vado qua alza le mani 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 primo round oh primo round vedi che ho preso oh calcio in mezzo l'unico eye kick giusto che hai fatto il primo round potrebbe essere tuo il secondo mi sa di no beh però il secondo pari 2 a 1 te 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 1 3 a 2 2 pari 2 pari 2 pari e l'ultimo 3 a 2 ho capito che hanno fatto mencere a lui basta e mi sa tanto che ti prendo in mano prendimelo in mano yes the winner is 50-45 50-45 hai perso tutti i round tutti i round hai perso non ne ha vinto neanche uno ragazzi che straga grande grande primo episodio di questo sfidiamo i pro che arriverà ogni due settimane intermittenza con Injustice ragazzi ci vediamo alla prossima ciao Injustice God Among Us quello con tipo Mortal Kombat Ciao a tutti!